Wonder Woman ha sconfitto Kitana, ma Superman non si trova a Metropolis. Ti prego, aspetta! Kitana se ne va. Wonder Woman, qui è Batman. Superman non si trova a Metropolis. La fortezza della solitudine è stata violata. È impossibile! Superman potrebbe trovarsi in quale serie. E senza di lui lo è anche la Terra. Sto arrivando! Lasciamo Metropolis e dobbiamo andare alla fortezza della solitudine. Il nostro povero Superman è stato congelato da Sub-Zero, il ninja di Yash. Ancora uno. Quan Chi aveva ragione. Chi sei? Sono Sub-Zero. Arrenditi e non ti sarà fatto alcun male. I ninquei non conoscono il significato della parola arrendersi. Tombatti! Chi sei? Chi sei? Chi sei? Grazie a tutti.